Ciao, sono Gabriele di Vruma Auto Rimini. Hai pure gas anche un po'? È tre mesi che sto facendo alcune cose interessanti con i sarti del web. Perché del web? Del web perché io lavoro molto su internet, ho questa agenzia automobiliare Vruma Auto Rimini e mi trovo molto bene con i sarti del web perché mi stanno dando molti, molti stimoli, molti input per le cose che faccio sui social, posso dire su Facebook, sulle cose che sto facendo su Facebook. Mi preparano molti post, discutiamo insieme su alcune cose, sto avendo veramente, veramente tanto riscontro nonostante abbia aperto da pochi mesi. Quindi lo consiglio a tutti o perlomeno a tutti quelli che credo ormai siano tanti che hanno visto in internet e nei social una formula per rendersi importanti, per rendersi, per farsi conoscere al grande pubblico. Perché adesso il grande pubblico è proprio di dietro lo schermo, lo sapevate vero? Anche dietro, vai vai! Abonnate 3